Roberto Zotter, cinquantesimo premio San Rocco. Innanzitutto cosa si prova a essere vincitori del decimo lustro di questo importante premio? Sono molto onorato, onestamente mi sento inadeguato rispetto agli illustri miei predecessori, quindi io ho collaborato con il centro studi nelle ricerche di cucina e dei luoghi, però non credo di meritare tanto onore. Ecco Roberto, una breve panoramica della tua vita professionale, tu sei ingegnere. Ho fatto liceo scientifico a Gorizia, sono ingegnere, elettronico applicato, mi sono laureato a Padova, stavo nel pensionato dei padri gesuiti, l'Antonianum, e poi sono stato assunto dall'IBM, in IBM ho girato il mondo, ho fatto un po' di carriera, sono diventato prima dirigente, poi executive, IBM mi ha fatto l'onore di finanziarmi tre anni di studio mentre lavoravo all'Università di Rotterdam, quindi un master in business management, e ho girato molto, tornando sempre a casa da mia moglie il venerdì, e questo è il mio background tecnico. Però poi tu ti sei anche appassionato tanto alla cucina, alla sua storia, alle ricette del territorio. Sono sempre stato appassionato di cucina, nel 1991 sono entrato nel Rotary, e nell'ambito del Rotary un altro club interno era l'Accademia Italiana della Cucina, sono stato invitato a farne parte, li ho seguiti, ho studiato, sono diventato delegato per la provincia di Gorizia, l'Accademia della Cucina è un'istituzione culturale della Repubblica Italiana, ho fatto il delegato per dieci anni, ho avuto l'onore di essere chiamato a Milano nel Centro Studi, un gruppetto di 13 persone che si occupa di studiare i trend della gastronomia, e tuttora sto scrivendo articoli o partecipando a convegni, cercando di dare il mio contributo e portando le glorie culinarie della nostra terra.